Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, tempo stabile e gran caldo, dunque come annunciato dagli esperti per quanto riguarda il nostro territorio, proprio Arezzo Meteo aveva appunto detto che per la giornata di oggi le temperature sarebbero state ben oltre la media del periodo e in effetti così è stato. Protagonista il promontorio africano che nei prossimi giorni perderà qualche geopotenziale in quota specie ad ovest della penisola ma non basterà per avere un netto ricambio di aria per quello dicono ancora gli esperti dovremo attendere almeno fino al 18 di agosto. E allora per salvarsi dal grande caldo soprattutto nei luoghi di lavoro all'aperto come ad esempio i cantieri si inizia a lavorare all'alba. Abbiamo cercato di fare una programmazione sulle tipologie di lavorazioni per cui nei mesi caldi noi facciamo soprattutto lavorazioni interne, nonostante questo abbiamo fatto delle programmazioni degli orari di lavoro dalle 6 la mattina a mezzogiorno. Si inizia così a lavorare all'alba per poter sfruttare le ore più fresche della giornata, una scelta di un'imprenditrice retina condivisa anche da numerose imprese come la sua che in questa torre d'estate hanno modificato gli orari di lavoro. Negli ultimi anni ci hanno messo a dura prova da questo punto di vista e infatti noi come aziende avevamo a parte le normative che ci sono alle quali cerchiamo di attenerci e ci atteniamo ma già da diversi anni abbiamo adeguato i nostri turni di lavoro a questa nuova situazione climatica. Abbiamo dotato i nostri cantieri anche di frigo, di posti di refrigerio e anche le baracche sono dotate di un piccolo apparecchio di condizionamento. La regione toscana intanto ha prorogato l'ordinanza che impone orari ridotti per le imprese che lavorano all'esterno dai cantieri edili alle cave, dalla manutenzione stradale al comparto agricolo. L'ordinanza prevede sanzioni perché viola le prescrizioni e vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata da le 12.30 alle 16 ogni giorno fino al 31 agosto. C'è però bisogno anche di ammortizzatori sociali e contributi. Per raggiungere le otto ore per la busta paga dei nostri dipendenti siamo noi che poi interveniamo con l'integrazione salariale, paghiamo direttamente noi. Credo che sia stata predisposta la normativa relativa ai comportamenti corretti per le nuove situazioni ma credo che non sia stata adeguata per adesso altrettanto un sostegno economico alle aziende, penso di no. Ci sarebbe bisogno? Penso di sì, credo di sì anche perché ricade tutto sulle nostre potenzialità per cui chi ha, chi può fare o chi decide di fare e ha anche questa sensibilità diciamo che tiene il proprio organico in una situazione diciamo tra virgolette di privilegio. Chi non ce la fa? Chi non ce la fa si deve adeguare credo oppure poi si trovano delle situazioni di precariato insomma soprattutto nel nostro settore diciamo che sono ancora purtroppo sono esistenti queste cose. Per avere un po' di refrigerio da questo grande caldo l'unica cosa ovviamente è dirigersi verso le località balneari grazie a Marebus adesso è raggiungibile appunto sia la costa tirrenica che quella adriatica con i mezzi pubblici. Sentiamo. Adriatico o Tirreno, poco importa, le due coste sono infatti raggiungibili anche con i mezzi pubblici grazie a Marebus che da quest'anno allarga il servizio di collegamento dall'entroterra al mare anche alla riviera Romagnola. Un nuovo servizio bassa dunque per collegare ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione nato dalla collaborazione tra Autolinea Toscane e TM che proseguirà per tutta l'estate sino a metà di settembre. È un servizio pensato per migliorare l'accessibilità a una delle mete turistiche più amate. Sempre in vigore nello stesso periodo anche il servizio di collegamento con la Maremma per raggiungere con i mezzi pubblici le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Pollonica, Marina di Grosseto e Principina Mare. Lungo il percorso sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire l'imbarco di passeggeri non residenti ad Arezzo ma che abitano in altre aree urbane. Per informazioni e acquisto biglietti è possibile consultare il sito TM nella sezione Linie Mare. Per ulteriori informazioni invece è possibile rivolgersi al servizio Infomobilità e chiamando il numero 800-100-403 da telefono fisso oppure il numero 199-122-344 da cellulare. Per coloro dunque che si devono mettere in viaggio che sia con il mezzo proprio o con i mezzi pubblici dalla ASL arrivano i consigli per conservare i medicinali proprio durante il viaggio. Durante l'estate a maggior ragione con le alte temperature di queste settimane è necessario prestare molta attenzione alla conservazione dei medicinali sia a casa che in vacanza. I consigli arrivano dalla dottoressa Barbara Meini, direttrice del Dipartimento del Farmaco della ASL Toscana Sud-Est. La prima cosa da fare è leggere attentamente il foglietto illustrativo, il cosiddetto bugiardino e il confezionamento esterno. Nel caso in cui non siano specificate particolari condizioni, i medicinali devono essere conservati in ambienti freschi e asciutti, a temperatura inferiore a 25 gradi centigradi. In viaggio è meglio avere borse refrigerate, ma nel caso di medicinali che devono essere conservati in frigo ad una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi, è necessario un frigo portatile con carica batteria. Se si viaggia in auto, l'abitacolo è più fresco del portavagagli. In aereo è preferibile portare nel bagagliaio a mano i farmaci salvavita insieme alle prescrizioni per eventuali controlli. Evitare di esporre i medicinali a fonti di calore e a irradiazione solare diretta, e non separare il blister dalla sua confezione esterna. Nel caso fosse necessario acquistare un medicinale mentre si è in vacanza, ma senza avere con sé copia della ricetta del proprio medico curante, la confezione originale che riporta alla composizione potrà essere d'aiuto. Infine, porre l'attenzione anche all'aspetto del medicinale che si assume abitualmente. Se si nota un colore diverso o diversa consistenza, oppure un odore anomalo, è necessario rivolgersi al farmacista prima di assumerlo. In caso di esposizione solare, è importante ricordare che alcuni farmaci potrebbero provocare reazioni di fotosensibilizzazione cutanea. Hanno richiesto un incontro al sindaco Alessandro Ghinelli e al prefetto Maddalena De Luca, che ci sarà proprio domani. I residenti e i commercianti della zona dove si trova l'ex albergo Trucciolini, che come sappiamo è stato trasformato in un centro di accoglienza e che presto vedrà l'arrivo proprio dei migranti. Già alcuni giorni fa il titolare, che ha dato in gestione la struttura, aveva appunto dichiarato che i migranti sarebbero arrivati tra pochi giorni. Parole che hanno poi scatenato il malumore dei residenti, che già all'inizio non avevano visto di buon occhio la trasformazione di questa struttura. Niente contro i migranti, avevano detto, ma non ci sembra idonea né la struttura né il posto, avrebbero dovuto scegliere altro. Vedremo insomma come andrà questa riunione. Tornando invece ai temi che riguardano appunto proprio l'estate, c'è da stare attenti non solo al grande caldo, quindi al colpo di calore o al colpo di sole, ma anche alla puntura di insetto. Ecco dottore, se avete tanti casi di persone che arrivano con le zecche, che ovviamente devono essere tolte, qual è il consiglio da dare? Allora, intanto io direi anche un po' di prevenzione, perché in fondo spesso li prendono a tutte le età, andando nei prati, nei boschi, anche banalmente a fare una passeggiata, quindi a volte non è colpa nostra, perché le zecche devono trovare dove attaccarsi. Quando troviamo una zecca sicuramente bisogna stare attenti a come rimuoverla, se vogliamo rimuoverla da soli. Noi abbiamo molti accessi per rimozione di zecche, perché la zecca non va mai tirata. Va presa con una pinzetta, girato in senso anti-orario, in maniera che lei si dice impazzisce, e quindi apre le zampette e si stacca. Perché se io la tirassi, come spesso capita, potrebbe rimanere il rostro della zecca nella cute, e questa può fare delle infezioni sistemiche anche molto gravi. Ne abbiamo avuti anche dei casi che poi vanno a ricovero anche in malattie infettive. E non solo, è assolutamente mandatorio che quando comunque c'è un morso di zecca si abbia sia l'antitetanica, e qualora non si avesse segnalarlo per fare le immunoglobuline, e spesso va fatta anche una protezione antibiotica, con un antibiotico ad ampio spettro, proprio perché le zecche hanno un potere infettivo importante. Invece il ragno violino? Anche il ragno violino è comunque uno di quegli arachnoidi da noi rischiosi, perché dà un morso tipico. Quindi fondamentalmente, soprattutto i colleghi delle malattie infettive, ma anche noi, quando c'è il rischio che si sia stati morsi da ragno violino, si vede perché spesso fa una zona necrotica, una zona nera dove avviene il morso, e anche questo spesso va a ricovero proprio per un'infezione da punto di vista sistemico che può sviluppare. Ma questo è un po' come molti insetti, insomma, e altri esseri viventi che per noi non sono saprofiti, dobbiamo stare attenti, insomma, possono scatenare infezioni sistemiche importanti. Poi variano a seconda dell'area geografica, comunque, dove ci si trova. Ecco, appunto, se rientro da un viaggio all'estero e è un bel febbrone, bisogna correre in pronto soccorso. Eh, diciamo che il sospetto che possa aver preso qualcosa deve venire. A seconda della zona dove sono stata, chiaramente saprò se era indemico o meno qualche plasmodio, o le famose ricchezze, che sono sempre tipo delle zecche, diciamo. E quindi sì, abbiamo la possibilità già in pronto soccorso di fare degli esami in urgenza, per escludere, ad esempio, la malaria, però il sospetto sì, nei viaggi all'estero deve venire, ma deve partire prima del viaggio, cioè la prevenzione, se c'è l'indicazione o meno a dei vaccini, assolutamente sì, vanno fatti. Arezzo rischia di diventare la pattumiera dell'intera Toscana. Ad affermarlo è il PD Aretino, in un comunicato stampa, che parla della recente richiesta di AISA Impianti di mantenere in vita la linea di incenerimento rifiuti L45, 45 mila tonnellate appunto, che in origine doveva essere dismessa a vantaggio della nuova linea di smaltimento da 75 mila tonnellate. I cittadini aretini, afferma ancora il PD, hanno sopportato e stanno sopportando il disagio di un impianto come quello di San Zeno posizionato alle porte della città, con tanto di cattivi odori che si propagano soprattutto verso la zona di Chiani, Battifolle e San Giuliano. Chiediamo quindi a Ghinelli di far tornare AISA Impianti alla sua missione originaria, ovvero un impianto di servizio pubblico volto allo smaltimento esclusivo dei rifiuti del territorio provinciale Aretino. Siamo alla pagina dello spettacolo e della cultura, in attesa allora che questo gran caldo molli la presa. Intanto forse ci sentiamo un po' più freschi pensando al Natale. Le date non sono state ancora ufficializzate, ma c'è già un'idea di massima della partenza della prossima edizione della città del Natale, sabato 16 novembre, per poi concludersi il 6 di gennaio, giorno dell'Epifania, quasi due mesi dunque di eventi e attrazioni che riguarderanno soprattutto il centro storico cittadino, ormai diventato meta turistica consolidata proprio durante il Natale. La prossima sarà tra l'altro un compleanno importante, la decima edizione, se si considera anche quella che insomma avvenne in tono un po' minore, denominata Arezzo Christmas Light, che si era svolta, lo ricorderete, durante il periodo del Covid. In attesa allora delle luci di Natale, intanto possiamo però ammirare le stelle. È la notte tra il 12 e il 13 agosto, ormai da tempo, quella migliore per osservare il fenomeno delle stelle cadenti o per dirla nella maniera più scientificamente corretta, le Perseidi. Lontani da fonti di luce e dalla mezzanotte in poi quest'anno, perché ci spiega Lorenzo Sestini dell'Associazione Arezzo Astrofili, la Luna da quel momento in poi darà meno fastidio. Ci dà anche alcune indicazioni su come poter osservare meglio questo fenomeno. Il modo migliore per osservare le stelle cadenti ovviamente è come facevano gli antichi, quindi con gli occhi. I telescopi servono a ben poco perché il campo si ristringe, si ingrandisce, quindi le stelle cadenti non si riescono a vedere. L'aiuto di un buon binocolo, magari a grande campo e a pochi ingrandimenti, può aiutare a vedere anche le stelle che a occhio nudo non si riescono a vedere. In realtà noi si parla sempre di stelle cadenti, ma vi vogliamo sfatare questo mito. In realtà con tutto l'inquinamento che abbiamo gettato nello spazio, molte volte è capitato di vedere una stella cadente, ma in realtà non è un piccolo granello di sabbia che entra o di polvere o di qualsiasi altro oggetto che viene dallo spazio, ma in realtà potrebbe essere anche una chiave inglese di un astronauta che è rimasta nello spazio e un pezzo di satellite artificiale. Molto meno romantico. Assolutamente molto meno romantico, quindi attenzione quando esprimete il desiderio perché in realtà potrete esprimerlo con una chiave inglese che brucia nell'atmosfera. Tornando invece al romanticismo, notte del 12 e 13, appunto luogo buio, quindi meno inquinamento di luce possibile, insomma un monte, poti piuttosto che le montagne intorno ad Arezzo. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere comunque un buon cielo discreto, quindi se vi avvicinate nella zona est di Arezzo l'inquinamento luminoso comincia a calare un po' a scemare, soprattutto anche in Casentino, quindi vi consigliamo Camaldoli, Laverna, Monte Falco, Poti, Lignano, insomma più ci allontaniamo dalla città e più riusciremo a vedere le stelle calenti, però ricordatevi solo dopo mezzanotte perché la luna comunque è un bel faro che illumina l'atmosfera. Questa associazione Arezzo Astrofili come si sta muovendo, come viene apprezzata secondo voi dalla cittadinanza e come si può fare per avvicinarsi a voi? Allora, Arezzo Astrofili funziona tantissimo, anzi ringraziamo e prendiamo l'occasione per ringraziare la cittadinanza, siamo ben seguiti, abbiamo delle chat aperte dove comunque quotidianamente mandiamo informazioni e tante altre cose, quindi risponde molto bene, ormai comunque sono quasi 20 anni che facciamo divulgazione scientifica, sia meteo che astronomica, quindi la risposta è notevole. Nel 2012 abbiamo vinto anche un premio nazionale come una delle migliori associazioni d'Italia, quindi questo ci ha reso molto orgogliosi e noi continuiamo con il nostro cammino. Abbiamo bisogno di voi, se volete entrare e appassionarvi abbiamo anche bisogno di voi, quindi lo ripetiamo ancora. Una notte di racconti nel bosco tra personaggi storici, scienziati e invenzioni, venerdì prossimo 16 agosto alle 21.30 torna la notturna di Sant'Angelo promossa dal proloco di quota e dalla brigata di Raggiolo, dunque in Alto Casentino, che proporrà una suggestiva passeggiata fino ai resti dell'antica pieve romanica di Sant'Angelo, dove sotto le stelle e in un palcoscenico naturale è in programma il debutto assoluto dello spettacolo comico divulgativo Curiosità Inutili, ma da sapere dell'Associazione Culturale Noi delle Scarpe Diverse. Buona la prima, come si suol dire per mattimonio, tovaglia a quadri appunto ha registrato di nuovo il sold out, il servizio. Anghiari ha una filastrocca sulle sue frazioni, a Tavernelle sono tutti i bottoni, alla Motina sono i contadini, al Ponte tutti i boscaioli e a San Leo sono tutti i matti. Tovaglia a quadri è una cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate che scandiscono la narrazione e i tempi della drammaturgia insieme a quelli della storia a cui il pubblico assiste, è seduto a tavola, mentre gli abitanti di Anghiari di questo borgo dalle loro porte, dalle finestre, in questo caso della piazzetta antistante al castello raccontano ogni volta una storia diversa. dove il pomodoro pizzichino sposa della gallina il fegatino, per un matrimonio di sapore destinato a durare nei secoli dei secoli. Camiglieri? Avanti con i crostini! E io! Vai dentro! Gli attori quest'anno sono 15 e c'è un notevole ricambio generazionale fra di loro e quest'anno si racconta una storia di matti, i preparativi per un matrimonio un po' pazzo e soprattutto la storia di una giovane anghiarese che ha un record sinistro, ovvero ha trascorso quasi tutto il Novecento in manicomio ad Arezzo, si chiamava Dalgisa Conti e noi riportiamo sul quotidiano, all'oggi, una storia che ha attraversato 70 anni del Novecento. Manicomio 1914, e chi non la conosce, la storia della Dalgisa, tutta la famiglia di lui era d'accordo e in quella di lei non c'era nessuno che poteva opporsi, avevano paura di una donna così. Così come? Matta? Provocanti, con una sessualità misteriosa. Che guaio per l'epoca! Dicevano anche che fosse l'ultima strega, quanta superstizione! Semplicemente, era una donna libera. Le donne sono state una parte fondamentale anche nella raccolta delle storie, ma soprattutto abbiamo deciso di puntare appunto su quelle che è stata un po' l'evoluzione del ruolo della donna nelle zone rurali dalle nostre parti, dove il patriarcato schiacciava un po' tutte le velleità di donne troppo intelligenti, troppo avanti come a Dalgisa Conti che in qualche modo dovevano con le buone o con le cattive essere rimesse al loro posto. Entro e esco quando mi pare, entro e esco quando mi pare. Flavia, per favore, per favore, comportati bene, non vuoi fare ingazzare! Se non fossi stata di caratteraccio, come mi sono sempre mantenuta, lui non mi avrebbe messo in gattabuia a succhiarmi la vita a stilla, a stilla. Il matrimonio quindi come una gabbia, tutti i dubbi e allora all'interno di questa dinamica di follia, ma una follia comunque che tratta sempre aspetti ironici, veri, anche dal punto di vista sociale, ci porta dentro la grande storia delle reclusioni, delle donne chiuse in manicomio perché erano troppo libere forse, troppo intelligenti in un periodo che era all'inizio del secolo scorso, quindi a Dalgisa Conti, la ragazza d'Anghiari citata, le cui vicende sono state anche trattate da Alda Merini, quindi una figura secondo noi qui di casa nostra che rappresenta le tantissime donne. Oggi parleremo magari di depressione, ma all'epoca si infilavano in un manicomio e non c'era possibilità riuscita. Entrare qui dentro non è facile e dirsi di sì per sempre davanti a lui. Numpsiesun coniunxio maris et femmine, consortium omnis vite, divini et umani iuris communication. Avevo quattro alla fine. Avvocato, il traduccio. E decliniamo il matrimonio come, sarebbe molto facile dirlo, come la prima base del patriarcato se vogliamo, ma la verità è che fanno paura i doveri e bisogna essere matti per affrontare un'unione del genere. Il matrimonio che è sempre stato considerato una grande possibilità per la donna, oggi è una donna libera e intelligente che non ha bisogno di un marito, di un maschio che sistemi la vita, ma perché si deve sposare. Per affrontare questa vicenda qua abbiamo preparato un wedding planner, una location in cui già questi nomi vanno a brividire, anche se sono di uso comune, per far sposare due ragazzi. Noi chiamiamo Citti in questa zona della Toscana. Uno bravo di una famiglia tradizionale che dovrebbe comolare a nozze con una che non è una brava città e non fa niente per sembrarla. Davanti a circa 200 tifosi in trasferta, l'Arezzo ha superato il primo turno di Coppa Italia espugnando così il campo della Vis, Pesaro per 3 a 1. Domenica prossima, 18 agosto, gli Amaranto incontreranno al Comunale in una gara secca, al secondo turno appunto Lascoli che ha vinto contro il Legubbio per 2 a 1. Questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale, vi lascio con la consueta puntata di Fattore D e vi ricordo poi che per tutto il mese di agosto, ogni sera alle 21, riproporremo proprio le interviste realizzate appunto nel nostro salotto dedicato alle storie delle donne in collaborazione con Pronto Donna, il centro antiviolenza di Arezzo. Grazie per l'ascolto e arrivederci.